Salve, vi saluto da Napoli. Vorrei presentarvi un'azienda, Skyward Community. Per chi non mi conosce ancora sono Katuna, con le qualifiche dell'investore leader e un speaker della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini, di cui due sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma emigrata. Sono emigrata da quattro anni, svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Anche io ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico e ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite. e dei servizi. Sono una specialista certificato di lingua italiana a livello A2 e per ora io sto cercando di fare esami di un mediatore europeo e cerco a svilupparmi sempre. E allora, avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community Skyward che si è sviluppato in Francia, Georgia, Germania, Polonia, Spagna, Italia e Israele. E con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti, erano investiti oltre di 13 mila dollari, però per oggi abbiamo più di 30 mila dollari investimenti. È un processo irreversibile che gli investimenti ancora stanno continuando e negli ultimi due giorni ancora un grande numero di azioni ci hanno firmato. E allora, allo stesso tempo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste e altamente pagate. In cui il mio team è attivamente coinvolto. Volevo dirvi che potete immaginare che prima del 2014, mentre non c'era niente, le persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e un grande e disinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora ci presentiamo Skyward Community con le sue offerte e opportunità commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatole Ionezchi, con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. E lo stesso Anatole Ionezchi ha già 73 anni ed è sicuro a 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. Chi non conosce ancora questo trasporto, vorrei dirvi che questo è un trasporto Skyway che si muove su rutaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimancono idratte. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti. L'aerodinamica del trasporto Skyway consente di raggiungere velocità fino a 500 chilometri. E anche la costruzione della struttura linea Sky richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E con la sua velezza e comodità crea un grande conforto per noi e può accelerare la nostra vita, anche così accelerata il tempo della nostra vita e dello sviluppo. E sempre andiamo avanti con lo sviluppo tecnologico. E allora, questa tecnologia già è disponibile per tutta l'umanità, quindi devono costruire e dobbiamo costruire in tutti i paesi del mondo. E tu potresti chiedermi anche che abbiamo un'alternativa e molte alternative nel mondo che già hanno provato a costruire tipo di questo trasporto. Allora, i treni lineari e diversi trasporti ci sono, però tutti stanno lavorando sull'elettricità che costa tanto. Però in questo caso abbiamo una diversità che sta utilizzando energia solare e lavora praticamente senza sosta. E' provato questo progetto con i diversi condizioni climatici e dappertutto è andato tutto inaspettativamente perfetto. E allora, in natura, dappertutto stiamo creando un'altra bellezza e comodità per noi stessi e questo trasporto sicuro che cambia la nostra vita a maggior parte. E vorrei dirvi che per oggi abbiamo qualche tipi di questo trasporto, Unibus ad alta velocità, che può spostare fino a 24 persone, però la sua produttività durante 24 ore è 500.000 passeggeri al giorno. Anche Unibus può spostare persone fino a 168 e con la sua produttività può spostare 50.000 passeggeri al giorno. Ancora 50.000 passeggeri al giorno può spostare Unicar con la velocità a 150 km in un'ora. E anche abbiamo i merci che non causeranno più sulle strade traffico e la strada in pratica sarà più liberata e potremo spostarci senza sosta, senza preoccupazioni, eccetera, eccetera. E questo è il progetto che è realizzato in Belarussia e in Arab Emirati Unity nella città di Sharjah intorno all'università americana che vi dico ancora. E allora tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida, sì, ma io ti dico che quando carichi un'auto ibrida, sì, dopo che tu devi collegarla ancora in alcuna elettricità, che è impossibile, quindi costa tanto e ciò riduce i numeri di consumo, energia totale. Sì, questo trasporto può produrre l'energia solare e creare elettricità per un giorno, accumulare energia di cinque giorni. Questa è una grande cosa. Allora, come vi stavo dicendo, che quando carichi l'auto ibrida, in pratica devi collegarla a una centrale elettricità che funziona di nuovo a carbone o in un'altra materia. Sì, prima e quindi crea danni alla natura. E noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo stavo guardare il nostro destino della nostra pianeta. E i costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente. E la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale. E allora, vogliamo presentarvi queste cose. Ogni partner nella società Skyward Community siamo in una posizione ereditizia, quindi questa è una comunione con gli obiettivi e interessi comuni per creare una vita spensierata. Per me e per i molti partner è diventato ancora più credibile, quindi in 200 paesi partner, sia anche Italia. E tutti i progetti che fino ad ora sono stati pianificati, firmati e realizzati si dicono come è importante questo progetto, come è reale e funziona realmente. Siamo orgogliosi di tutti che siamo collegati già in questo progetto. Allora abbiamo un sito, uneski.engineer, dove è possibile trovare tutti i certificati permessi, fine di oggi, da anni 70. Ciò potete trovare i risultati di duro lavoro di Anatoli Uneski durante 45 anni. E allora, quando io e tutti noi, investori di questa società, abbiamo molti profitti dopo collegamento di questo progetto. Quindi abbiamo i ratei e i dividenti, guadagniamo dal programma di partner, abbiamo l'ereditarietà e anche noi possiamo dare a qualcun altro e anche prendere l'ereditarietà, l'eredità e disposizione sulla restituzione del denaro. Diventiamo un proprietario di tecnologie, partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu. Passiamo alla storia, come fin'altro poi stiamo creando capitali per una vita spensierata. Abbiamo la possibilità di viaggiare in Dubai e non solo Dubai. E' attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite. E quello che è più importante per voi, per me e per tutti quanti, il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni. E allora, personalmente per me, prima quando mi sono entrata in questa azienda, era una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari. E' cosa che non avrei potuto fare nella vita reale. Ma cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra? E' incredibile. E in quanti anni dovrei risparmiare così tanto? E per me è che l'azienda Skyway World Community è diventata il senso e il supporto della mia vita. E vedo che l'azienda e anche il progetto sta sviluppando, va avanti sempre. E ho visto che durante pandemia e quarantena, quando tutto il mondo era fermato, il progetto stava continuando. E' sicuro che è diventato un processo irreversibile, sviluppo tecnologico e tecnologia, dà la possibilità sempre migliorare la nostra vita e migliorare tutti i servizi quotidiani. E allora, ci sono stabilimento di produzione, è un centro di innovazione Sarja e MISC, dove lavorano 3.000 ingegneri, istruttori, esperti che gestiscono il dettaglio del futuro, lavorando, trasporto con la massima elettrica, massima precisione. E qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia, quindi è costruito con materiali della racchetta. E allora, questi progetti di Dubai sono realizzati e funzionano. E ogni tourist e ogni persona già può andare a visitarli. In pratica, utilizzando questo trasporto, possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo, con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. Sappiamo che le strade sono congestionate e con la loro emissione si possono causare inquinamento e molte malattie. Però questo trasporto riduce questi problemi e già possiamo andare avanti senza danni per la nostra salute e per la natura. Allora, vorrei dirvi che questa è Dubai, intorno all'Università Americana. Abbiamo un centro innovazione dove già è realizzato questo progetto, dove puoi visitare, toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso. E come vi ho detto, ogni partner della società Skyward Community è in una posizione redditizia, quindi qui è possibile firmare un successore e anche ricevere, entrare aggiuntive dal programma di partnership, e di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati. Il vantaggio e il fascino della nostra azienda sta nel fatto che una forte riunione di persone con obiettivi e valori comuni e, come vi ho detto già, i rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto proprio per ottenere un reale benessere finanziario, che oggi è diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. In novembre già era firmato un progetto nella Turchia, dopo che abbiamo completato la quattordicesima fase dello suo sviluppo, e già in 2023, da 10 maggio, due giorni fa, siamo spostati per ultima fase, quindicesima fase del sviluppo della nostra azienda e stiamo avvicinando a ratei dividenti. E allora, i nostri profitti, tutto che non cambia, non cambiano, quindi io sto collegando sempre dal mio posto di lavoro, a volte dovete scusare, scusate che vi chiedo perdoni, tanti perdoni, per il rumore che entra durante la presentazione. Allora, la cosa più importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare, toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di essere varagonato a nessun'altra azienda. Questo è l'unicroto progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti. Ecotecnopark è stato realizzato ed operativo in Belarussia, nella città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti, in particolare nella città di Sharjah, nel centro di innovazione attorno all'Università Americana, dove è già possibile visitarli. All'Università Americana degli Emirati Arabi Uniti c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'Università e questa distanza comprende 21 stazioni. ogni visitatore può sperimentare in conforto di questo pro-trasporto e viaggiare con l'auto della linea string. E allora è arrivata il tempo a dire da dove prendiamo i nostri benefici. E allora il 32% della quota delle valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con l'investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative. e la nostra azienda vi dico che è registrata in Inglaterra, in Isole Vergini, come società europea nel 2014. E pertanto i diritti del single partner sono iscritti e tutelati dalla normativa europea. Inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. E dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi e ad oggi abbiamo già completato la 14esima fase e abbiamo cominciato la 15esima fase del suo sviluppo. e già l'anno scorso, a fine dell'anno 2022 la società Skyward Community è stata introdotta con un nome cambiato e oggi si chiama tecnologia delle stringhe UNESCO e azioni partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari e abbiamo a volte offerte specializzate per voi, per tutti i due stori, per una famiglia, per i bimbi, per i studenti e ogni partner può utilizzare questa possibilità per creare un bel futuro per i suoi figli. Allora, dopo il completamento della 15esima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividendi e questo è un documento partecipazione delle tecnologie che arriva dal registro inglese e anch'io ho già ordinato per me i miei certificati due sono arrivati e aspetto i altri e allora questi sono fasi dello suo sviluppo già siamo all'ultima fase e ancora abbiamo la possibilità di unirti in questo progetto a chi interessa potete collegarci con noi e vi spieghiamo come si fa e allora questo Unitsky Street Technology e vi dico che questo trasporto in realtà allora esiste è adatta per tutte le condizioni climatiche e il suo corpo è resistente alle radiazioni converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità ciò che è importante per te fino alla fine c'è ancora la possibilità di unirti in questo progetto ambientale così più globale unico e senza precedenti cambiare la tua vita in meglio e chi non sa ancora potete registrarsi dopo completamento verificazione avanti di voi saranno aperti tutti i vostri condizioni d'accordo con l'eglizzazione europeo e anche volevo dirvi che l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo tutti i diritti del comproprietario questo è in grande conforto per noi e la anche quando il produttore e creatore il signor Anatole Junetsky presenta una relazione annuale del lavoro svolto questo è sempre così fine ogni anno lui sta presentando tutto il lavoro svolto la nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda che offre di ti offre di aggiungere più 4% allora determinate condizioni restituite i tuoi soldi come mutuotario però tuttavia allora tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però con questo precedente non è stato finora rilevato e trasporto funziona vi ricorderò tramite pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare e l'elettricità lavorando praticamente senza sosta e termini di trasporto passeggeri più trasportare un numero molto maggiore e in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti in termini di inquinamento siamo a zero e sono state nocive e quindi nessun danno per la natura non ci sono e in termini di indicenti incidenti scusi è più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano in consumo trasporto maritimo terrestre e aereo però tutti questi tre trasporti causano danni per la natura e inquinano però trasporto skyway senza inquinamento sta lavorando praticamente senza sosta sta migliorando tutti i nostri servizi quotidiani e insicuro che questo è un trasporto del futuro e tutto questo che vi ho detto è il motivo per cui sky transport è il trasporto necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana potete trovare anche senza questo collecamento c'è un sito uneschi.engineer dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 45 anni di duro lavoro del signor natore uneschi a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro quando prima volta io ho ascoltato il signor Anatole Junetsky io ho visto che questa è una persona grandissima che nasce in mila anni una volta per salvare la nostra pianeta e la vita umanità quindi lui ha creato una cosa molto importante e in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria penso che questo è più importante che possiamo fare per altre persone essere utili per tutti e allora vi prego gentilmente di aiutarmi a realizzare questo progetto in Italia per creare condizioni più favorevoli in direzione del turismo del turismo scusate la pandemia di Covid-19 ci ha mostrato di necessità di un trasporto ecologico che è un trasporto per noi e per il nostro pianeta e per farsi che ciò che accada ho bisogno del vostro coinvolgimento e di quante più iscrizioni possibili per sostenere questo progetto implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio muoverci molto più velocemente partiamo con i ratei dei dividenti viaggiamo in Italia e in qualsiasi paese che sogniamo e anche la nostra eredità vi voglio dire ancora il profitto il profitto il nostro profitto è per noi tutti allora i ratei dei dividenti guadagniamo dal programma di partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro e diventiamo comproprietario di tecnologie e partecipiamo ad un progetto ambientale ampio globale per salvare il nostro pianeta blu passiamo alla storia come fin'altro poi creiamo capitali per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai attestiamo di formazione di specialità impegnative altamente retribuite e pagate e il valore nominale questo che è più importante per noi e per la nostra vita dopo il salute che è il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni è sicuro che questa tecnologia cambia la nostra vita quindi noi non imprendiamo l'ecosistema noi possiamo salvare la vita ai migliaia di persone di animali uccelli salvaguardare il destino della nostra pianeta avere la natura più curata e allora che noi saremo più sviluppati risponderemo più bellezza della nostra pianeta e ci sentiremo le mani di Dio sulla questa terra e fino alla fine avremo imparato come dobbiamo vivere sulla strada giusta vi consiglio a entrarvi nella nostra nel nostro progetto e nella nostra azienda per aiutarmi a impiantare in Italia questo progetto questo è molto molto necessario per noi quindi già da per tutto sono progetti già cominciati già realizzati già sono firmati che molti paesi già avranno questo trasporto pensate bene come può essere utile per Italia poi ecco qui era una società di Uneskitec Technology con le sue offerte e opportunità e io sono attratto stato attratto dalla qualifica di investore leader e un speaker di questa società e grazie per l'attenzione per l'attenzione che sono per l'attenzione che per l'attenzione che che è